di ovviamente passati Buzz Lightyear, sparatore di bolle figure del mastro topo delle tartarughe ninja primo accio figure di man statuette dei fratelli Nivel pupazzetto di army joker e la mia fisarmonica benvenuti ragazzi, io sono Francesco Angeli e benvenuti in questo nuovo video caccionastico oggi ragazzi, questo è un video come altri, probabilmente oggi vi farò proporre un video dove parla dei miei ricordi miei ora vi dico perché ricordi il video si chiamerà ricordi è così il video, l'ho chiamato ricordi per dimostrare alcuni miei giocattoli che avevo io da piccolo e soprattutto ragazzi non è ancora finita qui la mia manzarda da oggi in poi diventerà un'altra cameretta e attenzione ragazzi a giugno uscirà una grandissima novità che vi sciocca bocca aperta che non ve la devo dire ma perché è una sorpresa ce l'avendo sorpresa del giugno quindi June Surprise si chiama così e questo video che si intitola ricordi vi farò parlare dei miei giocattoli probabilmente come un storytelling questo è storytelling ricordi oggi faccio proporre dei ricordi di giocattolo che ho io da piccolo prima di iniziare questo video vi invito a lasciarmi tantissimi bei like iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e li sto fissando a uno a uno per dirvi la loro storia ora iniziamo subito buona visione il primo giocattolo che vorrete scrivere è questo pupazzetto di Armichok non so se ve lo ricordate Guardiani di Mars è un film della Walt Disney che probabilmente è un guardiano noto action figure del lontano 1975 questo ragazzi è vintage è un pezzo d'epoca diciamo che in verità muove anche la testa un po' parti rovinate il solito naso a goppa e le mani a mo' di pugno che deve combattere questo è Armichok e la sua storia era che ne so trovato in una mystery box di tanti anni fa il secondo personaggio è il mastro topo delle tartarughe ninja che non so com'è che si chiama poi lo trovo su google e ve lo dirò come si chiama è tipo che ne so probabilmente questo qua c'è una storia particolare l'ho avuto da quando ero piccolo dai miei cuginetti me l'hanno regalato al mio compleanno diciamo che in verità da piccolo avevo sei anni e ci giocavo dentro la macchina ma da oggi ho saputo che questo action figure fosse vintage e ho saputo che questo da oggi è da collezione allora il prossimo giocattolo che vi faccio vedere è Buzz Lightyear sparatore di bolle tipo che ne so che lo devi metterlo in una pistola che ne so pistola di bolle questo è un Buzz Lightyear ve lo faccio vedere completamente rovinato con del pastello le ali di luce verde e rossa un po' rovinata e qua cosola che si mette nelle bolle comunque questo raga è Buzz Lightyear sparatore di bolle loro sono Raffaello com'è che si chiama e Leonardo sono due action figure piccoline delle tartarughe ninja giochi preziosi anni 1990 che hanno che ne so tipo una moto c'avevo la moto delle tartarughe ninja che ora non so che fine hanno fatto che alla guida si mettono i due e c'avevo anche Michelangelo che non so che fine abbia fatto se lo troverò vi farò novità loro sono Fred e Vilma e probabilmente da come avete ben capito questi due erano dei pezzi vintage che probabilmente questi erano della Fred Fleaston Car cioè aveva la Freaston Car che non so che fine abbia fatto non so che questo ragazzo la Fleaston Car ce l'avevo non so che fine abbia fatto se la trovo vi farò novità allora i prossimi action figure che vi faccio vedere sono i fratelli Nivel di Dragon Ball GT che per chi non sapeste questi sono della Dea Mad in China della Dea questi sono da collezione fatti di vera gomma guardate i Nivel io c'ho un Nivel diverso come da questi perché questo è fatto di gomma mentre il Nivel secondo che c'ho io è di plastica questo Goku Nivel plastica di quarta uscita e Nivel Super Saiyan di ventesima uscita questi ragazzi sono due pezzi rari veramente invincibili Dragon Ball ma ora mi descrivete perché i suoi pertorali sono rovinati vabbè se ho del rosa carne li aggiusterò lui è Cucusto di Dragon Ball maestro di arti marziali Super Saiyan noto maestro di Dragon Ball che aiuta di fare mosse questo Cucus è di uscita di Agostini quasi che ne so ventunesima uscita questo è Cucus il maestro di Dragon Ball per concludere al primo posto per la forza di man ho scelto i man da metterlo al primo posto perché in verità questo action figure me l'hanno regalato a Natale cioè me l'hanno regalato i miei prozzi che ce l'hanno da quando ero piccolo e poi grazie a loro me l'hanno regalato a me questi man ragazzi è veramente bellissimo cioè raga hanno fatto un meme che in realtà ve lo faccio vedere per non parlare chi ha questa mossa qua che vente confinato bene ragazzi questo video si conclude qui il video si chiama ricordi ovvero ricordi passati tanti anni fa noi come sempre ci vediamo la prossima volta ciao 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 ciao